Quest'oggi miei burloni andremo a fare un video pazzesco perché ragazzi a grande richiesta l'ho letto da uno di voi nei commenti quindi a grande richiesta il warden droppa oggetti op sarà difficilissimo ragazzi cercare di avere degli oggetti op e c'è un ape di diamante No è morta è un fantasma dicevo che sarà difficilissimo però come avremo questi oggetti op se uccideremo ragazzi il warden avremo una marea di oggetti op invece se li daremo solo uniti ne avremo pochi quindi raga sarà a noi cercare di capire come fare Nico abbiamo un sacco di cose abbiamo anche un arco all'inizio è veramente tanto p perché c'ha power 4 e un breaking 3 guarda Amici di Milano ed intorni ma non solo vi aspetto al Games Week fiera di Milano ragazzi sabato 23 e domenica 24 novembre padiglione 11 star shop avremo un meet and greet dalle 11 alle 12 e 30 e dalle 14 alle 15 e 30 sia il sabato che la domenica Ma non finisce qua perché sabato 23 dalle 18 alle 18 e 45 staremo sul palco a parlare di Minecraft quindi ragazzi non potete mancare non vedo l'ora di incontrarvi vi mando un bacione e mi raccomando venite perché c'è nei biglietti super scontati Eccolo qua vedi che è morto è morto quindi direi che possiamo iniziare 25 minuti partiti caro amico caro amico caro amico ah non ti ho detto una cosa L'ansian city è sotto di noi volendo nel senso che perché volendo se non voglio se non vuoi ti fai la tua speeder normale e cacchi tu hai capito cioè non so se hai capito la situazione Ma proprio qui qui sotto qua sto scendendo sì se tu scendessi a posto io sto facendo una roba veramente mi è venuta una bellissima idea Questa è un'ottima idea di marce marci sei un genio ma scusa una tua idea è stata anche far sì che ogni blocco spaccato da esperienza no questa non Non è mia mia competenza questa cosa non sapevo di questa piccola cosa e devo tossire prego ok ho fatto sistemato hai trovato Ferro hai trovato del ferro vabbè ma noi non ci sai del ferro dobbiamo ammazzare il warden zio vabbè io Hai ragione ma io non so fare quella roba dell'arco cosa devo fare il 50 blocchi no no così no che poi se moriamo non riusciamo più a tornare Vabbè lo faccio anch'io allora Era per fare un bene per entrambi facciamolo separato ci conviene no facciamolo separato figliati vai di lì così ti dico quando muovo quando sto per morire Tanto dobbiamo arrivare ad ipset ancora nico quindi non è che dici ma no il mio era lungimirante perché se ora moriamo Eh mi son fatto il letto io ah ok dopo lo spacco e lo ruco Pronto schifoso infame scusa te l'ho pure detto sono facendo una cosa incredibile cosa poteva essere il letto Il lectern Il lectern per fare il villager che ci dà la tosse il villager con la tosse ma ti immagini mettessero ste cose sarebbe bellissimo però anche a te si è potenziato Sì l'ho messo io Ah ok Non volevo romperti nessun sogno però Vabbè no capisco ecco da qua forse però inizio a fare così Ma perché fai così così cadi e muori poi Ma va ai piedi d'acciaio Eh immagino Tanto guarda Che culo Che quali probabilità Dai sei veramente un escremento di gallina No di gallina no eh Madonna mio quello è proprio schifoso Dobbiamo farlo spawnare il brother Eh inizia a correre Dai brother spona Ma io vado per minchia di chest Gioco ci sono Vabbè eh Quello era il mio compito Chest Ok vedo tutto nero già Mi piace questa cosa Oddio stai svenendo? No È un cavo di pressione Io non ho uno svarione tranquillo sto a posto Ma io chest Ma niente Ma niente No no niente Per me niente Io devi ambale con binding Ma cioè ci sono lutti più forti del diamante immagino Beh penso proprio di sì Allora non li metterò Ma io zero non ho mai corso così tanto senza che spawnasse Ma devi saltare su uno spawner guarda Ha un urlatto Un altro urletto Un altro urletto e poi? E poi nasce Dici? Ma sei sicuro che nasca o? No nasca o no canta lui? No nasca è uno youtuber Vabbè anche un cantante Sì ma prima uno youtuber Ah ma vuoi spawnare brutto fallito? Eh? Devi guardare Devi guardare lo ying e lo yang No vabbè ragazza Cosa è disarmante? Disarmante Ma dov'è? Ma io non vedo neanche gli shrieker Ma dove sono? Ma siamo sicuri che Ma non ci sono gli shrieker brother? Io ho un warden davanti a me Non è molto simpatico Ragazzi vabbè non ci sono gli shrieker da me Non è una bella cosa questa Lo sai ragazzo server? Il warden è nato e poi è rientrato sottoterra Ok qua ce n'è uno forse Mi ha Non so come spiegarti cosa è appena successo Ma ho una mia mano Hai una tua mano? Ma perché sento? Più 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 Allora io ti vorrei spiegare tante cose nella vita Ma non te le so spiegare molto Monster spawner? Ma che stai a dire? È morto un warden L'ho ucciso Ma come hai fatto a uccidere un warden? Eh non pensavo di essere così forte Ehi warden Dove sei? Si può togliere il colore nero qua? Il darkness? No tornerà Tornerà all'infinito si Ma non droppa niente bro A voglia se droppa A me ha droppato al primo colpo un fucile Con cui ho ucciso tutto e tutti E poi ho una mano Il problema è che mi stanno fendendo le frecce Ma guarda che ti droppa cose ogni volta che lo tocchi Eh ho capito ma Mi sto uccidendo Sono morto Porca Ho capito cosa intendevi Eh che ho preso a me Oh porca miseria L'ho devastato L'ho distrutto completamente E' proprio fatto fuori In men che non si dica Ma che armi sono queste? Light cyber typhus boon Non so cosa No sbulla no No sbulla no Sbulla no Oh cobalt boots Eh ma questi mi sa che sono meglio 12,5 14,6,4 Ah preferisco quelli lì Via Ok Cos'è sta Ma una tromba Ce l'ho anche io Però volevo farti vederla a mia mano Ma che Cari Ma che è la mano Ma che è? No la trombetta è la mia arma preferita Ma che cosa sto vedendo? Ma è normale Ma cosa c'è sto coso? Oh porca miseria Ma non hanno delle ricariche queste cose vero? Eh non so No va una durabilità credo Ma tu hai le blaze rod per caso? Sì ma E' veramente troppo forte tutte queste armi Sto one shotando tutto Ma dove sei tu? Eh qua Io ti sento Eh A piacere Server closed Si è chiuso Non vuole più Un applauso a noi che abbiamo rotto il server Un applauso Oh ne sta spawnando un altro Dove sta? Ehi Brother Dove sei? Qua c'è qualcuno che sta morendo Queste armi sono veramente sgravo Non posso neanche vederle tutte Perché sono veramente troppe Eh non mi spara più Eh avrei finito i colpi Ma non puoi ricaricare Ma no ma non gli ho finiti i colpi Ce l'ho Ce l'hai in mano l'arma Aiuto ma Eh Avere in mano un'arma non vuol dire averla carica Anche a me non spara più quest'arma Non spara più niente bro è successo qualcosa Te lo giuro No ma è vero No l'SMG spara Lo sto spara Lo sto ammazzando con la mia armettina Con il me Cos'è il me? Quello che fa Ma quello non fa danno Marci Non è vero l'ho ucciso Ma non fa danno Fidati di me è morto E ne ha sponato un altro adesso però Non faceva danno te lo giuro Ma perché non spara Abbiamo un problema comunque Alcune sparano altre no Questa era la doppietta di prima Che forse la buttiamo No no la doppietta non guardare neanche Ok Dove sei? Wurgens Wurgens Hey I'm here Cosa è questa cosa di buonina I'm here for you Where are you? No cretino No cretino Hyper sonic cannon è pericoloso L'hai provato? Non spara quello È vero Ma io sento tanto Ehi Buonasera My name is Marci Ah no si che spara È che è da caricare il colpo È di tenerlo premuto Vabbè ma fa cagare Via La mia mano è fortissima Io ho tutti gli enderai Vabbè Apprezzo è che te ne preghi molto Che no fa eh Contra la mia mano Cosa puoi fare? Tutti morti a casa Eh c'è un altro warden Però guarda Ma che so Sento il pipipi dalle tue cunfie Come fa mai il dito comunque Vabbè Allora io sono a posto penso di blaze powder Però vorrei anche delle armi un po' più decenti capito Ok mi sembra che si Ma dove sei? Ma questa prima sparava eh Provati nel premuto o a ricaricare Come si ricarica? R Ma la R non ricarica Eh allora non hai Control Allora Reload R Io lo metto sulla F No la F non si può Sulla Q No sulla Q non si può Sulla T non si può Sulla EV Mili attack via Vediamo se ricarica Vedi che non attacca A te spara quest'arma Prova provala Che colore ha? Gialla Questa carica Oh questa toglie un botto si andrà Eh ma io vorrei delle armi per ammazzare il drago Capito? Questa qui non spara secondo me Oddio Oh porca miseria scusami Ma sei stato tu o sei stato? Ma perché? No mi stai ammazzando Basta 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 Vedi che mi ricarica Ma perché a me non ricarica? Cos'ho fatto di male io? Ma che fa? Riproviamo? Aspetta butto via la candela Oh porca miseria Adesso va eh Adesso va Magari non c'è le munizioni Che carina questa c'è un fiorellino sopra Io tutti li enderai comunque Questo è uno shotgun? Buh Vabbè niente Sì comunque non ho shotgun Ma perché non spara questo? Ancora? Ma secondo me non ho bisogno di qualcosa eh Ma a me quasi tutte sparano Forse tutte 57 di 60 colpi mi dice Non li vedi? Ah questo 0 su 24 Ah capito Forse è quello il problema 4 di 6 Ma posso ricaricarlo io? Boh io mi tengo a starmi qui E chi si è visto si è visto Me ne vado al bar Wurgeons Hey Wurgeons Ciao brodo Ammazzami per favore Ma gli ho sparato E' tornato sottoterra Non è giusta questa cosa eh Ho trovato un'altra arma Che sembra maledetta La proverò a usare comunque? Chiaro Claro Ma è una pistola d'acqua? Mi ammazzi per favore Io volevo fare un esperimento Scusa Quanto danno hai subito? Tanto Sto morendo Aspetta prima Devo spaccare il letto però prima Ok Grazie mille Buongiorno A me picchia no? Dai picchietta anche me Io me ne vado addio bros Sei stato un valoroso condottiero Sarà lontanissimo Lo sai vero? Tranquillo Io no problema No paura Senti troviamola assieme Ti aspetto Tanto è uguale Guarda io già sono Respawnato non so dove Allora così si fa Eccoci qua La mia pistola d'acqua è molto carina Ma è un po' inutile Anch'io ce l'avevo anzi Io questa cosa Vabbè è carina No cos'è? Tanto non potrei sparare Wow È un mulinello Mi sento così Piplop Vabbè Troviamo questo portale Per gentil cortesia Secondo me Non era da fare Questa cosa Raga vi abbiamo tagliato Tutto il pezzo Cioè non c'avamo più Siamo rimasti zitti Per trovare il suo portale E dovrebbe essere qua sotto Ma che piccoli hai? Scusami Guarda che bello il mio A me è un scerrutto Manca neanderai A te sì Oh no No basta Ah no sono io Sono io Sono io Sono io che trasformo i blocchi In questo piccone Sì sì fanno E devi usare una zappa E tu quanti livelli hai? 20 Anch'io ne ho 20 Quasi 20 Non hai una zappa? Ne ho 21 Ora Grazie di livelli Troppo gentile Sì speriamo aiutare magari Il portale Magari che dici? Vabbè scavo io che tu sei lento Dai Dai Quanto era No No scusami Quanto era vicino l'occhio Quando è sceso? È andato direttamente sotto e basta Non è vero Sono tornato indietro Dai ci sarà qualcosa Mi sento che ci sei Ti ho detto che c'era qualcosa io Guarda tutto quello che tocco diventa shulker No shulker Skulker Oh è qua Vuoi vedere come lo vuole tutto il video? No non roviniamo il video No 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 Aspetta non buttarti subito Ho avuto paura scusami Eh ho avuto paura Ho avuto paura ti ho detto Guarda Fear nothing Io non ho blocchi per arrivare di là Aspetta aspetta ci riprovo ci riprovo Fear No ho sbagliato il salto scusa Guarda guarda Fear nothing Wow Fallo Dai vabbè anche io ho sbagliato una volta Tranquillo riprova Sì ma io non lo spawn No neanche io Torna lì No devi fallo Aspetta aspetta lo faccio farlo faccio lo fa Ragazzi ormai è andato così sto qui Scusate Spawn point Corri e trisì Beh trisì Aia cacchio No Di quanto non c'ero scusami Eh 4 o 5 blocchi Bravo Bello questo Bravo Mamma che fenomeno Mai visto Mai visto questo Carlo Ok E non puoi capire le certe cose Vabbè Ti direi di quanto non sarei a me mai mai visto questo Carlo Davvero Mi limito a toccare Spacca gli hand crystal come ho fatto io negli ultimi video Aspetta un attimo che forse cresce al server No ok Sbam Tranquillo Ti pensi sto dai tutti i cristalli Ma togli un botto starman Ricarico potrebbe crescere tutto ma non dovrebbe Eh Coteva Ragazzi Io non so come l'avrà montato Damiano perché Damiano è un genio Un king Grazie a Damiano Ma noi ci crash ogni volta che richiamo l'argo Io non ricarico mai perché ormai lo so che non posso farlo Abbiamo qui Mi hai detto di sfondare i cristalli come li sfondo Con le 150 di armi che avrai nell'inventario E sono tutte scariche di default Ragazzo server l'ha messo nella cesta scariche Cosa dice sto discolpa Dev Io veramente non ho più parole per descrivere la situazione che si sta creando Ma c'ha tutta la vita il pagliaccio Ok vedi basta fare così con Carlo Allora quindi quest'arma la aggiungiamo nelle arme bannate Ora Ok Questo è il pompa di prima vero Oh Ha finito? Ha finito? No non ricaricare Ma è piena dice Ah 0 di 30 vero Buttata via anche questa Tutta via anche questa Via questa qua Ah ci sono one shot le armi Oh questa toglie un botto eh Zio questo qua toglie un botto Quanto toglie? Ma che sto sparando pure io Eh ma toglie un botto Quanti colpi ho questa qua? 33 di 60 Finita vero? E perché tu disi quelle laser? Secondo me quelle sono le peggiori Dici? Eh Ma questa qui non spara nemmeno Let's go Ma non è neanche avuto Ho avuto un pompa? No ti ho messato Mazza che schifo È il primo che entra ragazzi Nel portale Nel lene È il primo che entra nel portale eh Pezzente Ho perso Sì Sono rientrato Scusateci Guarda divertente spero Ci vediamo in un prossimo Non mi fai danno Surprise Badaf***